Grazie Presidente. Buongiorno colleghi. Questa è una delibera che abbiamo protocollato e mi preme di ribadirlo in via preliminare perché ho visto ricostruzioni sia giornalistiche che da parte delle opposizioni, seppur comprensibilmente sulla tempestività di questo indirizzo politico che è stata protocollata in data gennaio 2019. Quindi all'indomani delle determinazioni di rescindere il contratto di locazione dell'immobile sito in via del Tritone ci siamo subito attivati per dare indicazione politica su quelli che erano gli step poi da seguire successivamente sulla questione in esame. Ovviamente abbiamo proposto degli emendamenti e dei subemendamenti a volte ad aggiornare questa proposta perché come detto era stata protocollata nel gennaio 2019 quindi passato ormai un anno si è dovuta inevitabilmente riattualizzare e questo ha comportato anche un'espressione parere in commissione paraterimonio data nel dicembre del 2019. Ho letto molte cose sia da parte delle opposizioni sia da parte delle testate giornalistiche principali. Io comprendo che questa operazione sicuramente non è stata una delle più facili dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista della scelta dell'immobile su cui porre in essere la nostra scelta, il nostro indirizzo politico. Tuttavia mi vorremmo sottolineare che in questo anno, in questo 2019, da quando ci si è determinati allo spostamento si è fatta una notevole istruttoria che ha visto coinvolti non solo consiglieri di maggioranza o gli uffici proposti ma tutti i consiglieri che sono venuti nei sopralluoghi, mi ricordo i sopralluoghi via di Cerchi, i sopralluoghi a via Goito e via via dicendo. Purtroppo la scelta non è stata facile e non è tutt'oggi facile infatti nonostante appunto si impegna la sindacale aggiunta in una determinata direzione per seguire questa direzione non sarà sicuramente facile. Tuttavia appunto lo Stato, il senso, la razza sottesa a questa proposta di deliberazione è quella appunto di ridurre per quanto possibile le spese relative ai cosiddetti fitti passivi infatti mi preme sottolineare questo l'obiettivo, il target di questa amministrazione quello di togliere dalle spese di Roma Capitale circa un milione e mezzo di spese appunto per la sede dei gruppi. Ora, per poter fare questo ovviamente bisognava procedere e quindi individuare un immobile facente parte del patrimonio capitolino, quindi facente parte di Roma Capitale e questo non è stato possibile, cioè non è stato possibile, è stato molto difficile per il semplice fatto che lo Stato manutentivo e lo Stato dei luoghi non è sicuramente dei migliori però e quindi ovviamente stante questa considerazione, stante il fatto che appunto dal punto di vista gestorio non è stato tutto semplice, comprendo che le opposizioni e sicuramente il consigliere Filiomeni di cui ho letto già un'intervista questa mattina sicuramente passerà l'attacco comprensibilmente ma anche appunto da parte delle altre opposizioni ci sarà un attacco perché appunto questa è una scelta coraggiosa e come tutte le scelte coraggiose inevitabilmente sono sottoponibili a critiche, sono sottoponibili a mille problematiche certo, e chi le nega o chi le vuole nascondere assolutamente, ma le scelte coraggiose sono proprio queste sono le scelte che nonostante le varie criticità, l'attaccabilità da parte delle opposizioni da parte di chi appunto e comprensibilmente vuole gettare fumo sull'operato di questa amministrazione ripeto nuovamente in modo più che comprensibile, perché appunto il gioco delle parti vuole questo inevitabilmente ma la scelta coraggiosa è proprio questo, passare appunto da un fitto passivo alla scelta all'individuazione di un immobile di Roma Capitale che porterà appunto a un abbattimento dei fitti passivi di circa un milione e mezzo e proprio per questo, permettetemi una battuta di spirito, ma sono sicuro che appunto avrà replica sarebbe stato molto più semplice se questa amministrazione, come è avvenuto in passato sia la destra che la sinistra avesse optato per un nuovo fitto passivo sarebbe stato molto più facile, sarebbe stato anzi, credo, immediato come passaggio tuttavia noi abbiamo spinto verso questa scelta coraggiosa oggi siamo qui per dare un ulteriore indirizzo di dove effettivamente i gruppi consigliari debbano appunto prendere possesso dell'immobile il resto avrei un altro paio di cose da aggiungere ma lo risparmio per la dichiarazione di voto grazie presidente